e buonasera buonasera oggi un pochino in anticipo alle ore 21 bentornati sul canale di pagine romaniste il nostro podcast il salotto di pagine una buonasera da Iurio Giano oggi sarò sarò solo perché tra poco il compleanno di fede insomma quindi è anche per lui giustamente una serata libera per quanto insomma possono essere libere queste maledette serate andremo a parlare insomma di quello che sarà Sassuolo Roma con tanta emergenza da parte di mister Fonseca ma anche insomma andremo a dare uno sguardo a quelle che sono le altre partite di Serie A in questa giornata che si preannuncia interessante dopo una sosta che sta debilitando molte squadre perché andremo a a vedere anche il focolaio che si è creato in nazionale insomma anche Verratti oggi risultato positivo al covid Bonucci insomma chi più ne ha più ne metta e poi verso fine trasmissione andremo anche a guardare lo scherzo fatto a Bomber Moscardelli da quei pazzi delle Yen insomma io ancora non l'ho visto ve lo dico e quindi sarà una sorpresa anche per me vedere vedere questa cosa e intanto sta giocando anche Sinner nel semifinale di del Master 1000 di Miami e a terzo con Bautista Agut quindi ancora un'altra grande partita da parte del nostro Yannick Sinner che si sta facendo valere un grande un grande tennis vi ricordo i nostri social con punto esclamativo social Facebook Twitter Instagram e pagine romaniste e il nostro sito web è pagineromaniste.com aggiornato 24 ore su 24 e YouTube signore Angelo Rosso dove poi il giorno dopo ricaricheremo i nostri podcast e vi ricordo per fare la sub per riabbonare al nostro canale punto esclamativo sub cliccando poi sul link che vi apparirà nella descrizione oppure andando in basso a destra della della live insomma cliccando su quanto c'è scritto chi non ci ha seguito lo facesse andando a cliccare sul cuoricino sempre in basso a destra per rimanere sempre aggiornato con le nostre con le nostre live e ringrazio Avneria per il follow ricevuto grazie e benvenuto qui sul nostro canale di pagine romaniste insomma adesso andremo anche a vedere la conferenza stampa di Fonseca andremo a leggere le parole e a vedere anche il video insomma ve lo metterò anche anche come sottofondo per per vedere quello che c'è detto mister Fonseca insomma infatti faccio subito lo switch ecco qua il dato stavo vedendo sì su diretta sin che è al terzo ecco qui il nostro sito ha parlato anche l'ex direttore sportivo Gianluca Petrachi insomma quindi avremo di cose di cui parlare c'è anche il programma di Ajax Roma che si giocherà giovedì alle ore 21 all'Amsterdam Arena ma intanto apriamo direttamente l'articolo della conferenza stampa di di mister Fonseca che ci ha dato vari spunti soprattutto su Smalling che ci ha detto che sta meglio ma non è ancora pronto ma ancora di più su Cristante che domani giocherà e sarà titolare al centro della difesa tre romanista è un recupero abbastanza importante per per l'emergenza non ci sarebbe Agnes squalificato con Bulla è infortunato Smalling come ha detto mister Fonseca sta meglio ma non è ancora non è ancora a disposizione speriamo insomma di averlo contro l'Ajax perché lì è il momento veramente verità della stagione romanista perché è vero che il quarto posto è vicino ma allo stesso tempo è anche lontano siamo a cinque punti dall'Atalanta e dalla Juventus che in settimana recupererà anche la partita contro il Napoli finalmente insomma sempre che che non la vogliono spostare per l'ennesima volta facendo qualche qualche impiccetto si recupererà anche Sassuolo Inter e finalmente avremo un calendario alla pari aspettando Lazio Torino che ho letto che si potrebbe recuperare anche verso gennaio e certo recuperiamola quando fa più comodo a gennaio no quando il campionato praticamente è già bello è già bello che è scritto e mister Fonseca ci ha dato anche delle indicazioni su su Jordan Vertu intanto mi metto qua il il video della conferenza sei minuti intanto ormai queste conferenze sono molto veloci ormai con con Fonseca sta meglio anche Verdu oggi si è allenato con la squadra e sarà convocato per domani infatti dopo andremo anche a vedere i convocati c'è Verdu penso che la prossima settimana possiamo averlo al cento per cento dicendo così io mi aspetto una sua titolarità perché se deve stare al cento per cento la prossima settimana è giusto che giochi qualche una bella fetta di partita di domani e non solo magari i canonici fra ho detto gennaio so fuori so fuori veramente di testa grazie grazie Fraugher che mi corregge sia fine a fine maggio sia detto gennaio sono veramente esaurito ragazzi sia gennaio poi ho letto forse anche fino aprile quindi questi si acchitterano la partita quando gli pare a loro ormai siamo siamo troppo abituati e vi dicevo di Verdu probabilmente me lo aspetto per un bello spezzone magari un 60 65 minuti di partita insomma per per farli mettere della benzina sulle gambe per poi giovedì farlo giocare naturalmente titolare a centrocampo ha parlato anche di di El Sharao insomma non possiamo dimenticare che Stefan è arrivato dopo e perché non giocava veramente da tantissimo tempo poi come abbiamo spesso detto la la preparazione normale no che è quella che ha fatto la Dubai col preparatore atletico non è praticamente comparabile con gli allenamenti giornaliere della squadra ma non è neanche paragonabile alle partite che giocano i giocatori no quindi si vede che è indietro ma giustamente non possiamo farli veramente veramente una colpa e agili ha deciso già chi giocherà al centro dell'attacco tra Diego e Borca Majoral io vi posso dire che il campionato toccherà Borca Majoral in Coppa e forse che si affiderà ad Edin Dzeko in Coppa più la partita contro l'Atalanta che si giocherà poi il 22 di aprile dopo dopo il Torino e poi hanno fatto ancora un'altra domanda su Chris Smalling e Smalling sta meglio questo è l'importante poi è vero che abbiamo bisogno di più giorni per recuperarlo al 100% noi non vogliamo rischiare con lui dobbiamo far tornare i giocatori quando saranno al 100% in questo momento ha bisogno di più giorni per farlo lo stesso questa cosa di Smalling magari si riflette anche su quello che è un po' la la situazione di Michele che si diceva insomma che doveva recuperare già per queste partite che avrebbe partecipato alla trasferta di contro l'Ajax di giovedì di giovedì sera invece Michele rischia addirittura anche la partita di ritorno quindi è veramente una questione ai limiti del nebuloso e purtroppo ne paga ne paga le conseguenze della Roma io spero che la Roma ci dia magari qualche volta i tempi di recupero perché è da qualche tempo che nei comunicati ormai saranno due tre anni che non viene più segnato in quanto tempo possono recuperare recuperare i giocatori da da un problema e questo è un problema per magari noi addetti ai lavori no perché possiamo massimo ipotizzare quanto possono stare fuori giocatori però alla fine non è per niente nulla certo però vedete Smalling doveva rientrare già quella precedente contro il Napoli no avete visto il sorriso al tifoso la sicurezza invece poi è fuori anche domani col sassuolo potrebbe star fuori anche con con l'Ajax incrociamo le dita affinché affinché non sia non sia così infatti ecco le condizioni di Michele ne sta lavorando individualmente sta molto meglio vediamo la prossima settimana e questo già un po' ce l'ho precludere sicuramente per l'andata contro l'Ajax e ce lo forse ce lo potrà precludere anche per il match successivo che sarà mi sembra contro il Bologna alle ore alle ore 18 insomma anche questo calendario no adesso andiamo a vedere un pochino il calendario direttamente dal sito della Roma perché insomma c'è da dire che il calendario della Roma non è questa cosa facile no perché comunque si giocheranno tantissime partite in veramente in veramente poco tempo e dove 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 eccolo qua a cominciare da domani insomma 3 aprile sta solo Roma alle 15 l'8 aprile contro l'Ajax all'Amsterdam Arena alle ore 21 e poi si comincia il vero tour de force no perché non ci sono le canoniche 72 ore di riposo tra una partita e l'altra perché la Roma giocherà contro il Bologna alle 18 per poi scendere in campo ancora giovedì il 15 contro l'Ajax e neanche qui poi ci saranno le canoniche 72 ore di riposo contro il Torino perché la Roma scenderà ancora in campo alle ore 18 il favore che ti hanno fatto è quello di mettere l'Atalanta il 22 aprile alle ore 18 e 30 insomma pensa che 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 favore invece di farti giocare mercoledì ti fanno giocare contro l'Atalanta di giovedì quindi figuriamoci insomma quanto li stanno venendo incontro no perché anche Torino e Bologna magari hanno spostato dalle 3 alle 18 e andando incontro a quello che dice la Roma no perché Fonseca si è spesso lamentato su questo fattore delle 72 ore che non ci sono tra una partita e l'altra e purtroppo neanche qua neanche qua perché se ricordiamo che se la Roma dovesse poi passare anche il turno contro l'Ajax andrebbe in semifinale di Europa League e lì si giocherebbe ancora ogni ogni infrasettimanale fino alla fine del campionato perché poi vediamo il 25 aprile contro il Cagliari sempre alle ore 18 il 2 maggio al Ferratis contro la Sampdoria alle 20 e 45 e poi mi sembra che il calendario ancora dovrebbe essere dovrebbe essere ancora in questione dal 9 maggio in poi perché le ultime partite Grotone Inter Lazio e Spezia non sono ancora state sorteggiate no decise perché ora perché ora si giocheranno quindi la questione del calendario della Roma rimane ancora una questione molto seria a differenza di altre squadre insomma che hanno avuto molti molti turni al loro favore no pensiamo al Milan che ha spesso giocato di lunedì una volta gli è toccata anche la Roma a giocare di lunedì ma perché giocava contro il Milan non perché è successo qualcosa insomma di di clamoroso che sono e ti sono venuto incontro purtroppo la situazione è così e ci possiamo fare ci possiamo fare ben poco su sulla questione di del calendario andiamo a vedere le probabili le probabili formazioni della partita di domani perché anche il Sassuolo avrà delle essenze pesanti no oggi anche Muldur sarà fuori precauzionalmente ieri Ayan è stato trovato positivo al covid quindi la situazione ancora ancora quella che è perché il il Sassuolo dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1 insomma di Marchio De Zerbi con consigli in porta Tolian, Kiriches, Marlon e Rociero in difesa, Obiang, Maxino Pes come a smistare insomma i palloni e a contrastare gli attacchi romanisti, Traorei, Diuricic e Boga dietro a Giovane Raspatori la panchina naturalmente ridotta all'osso con Pegolo e Turati che sono due portieri, Chiara Coppolo, Seppeluso, due difensori, Magnanelli centrocampista, Arraslin e Odei che sono due attaccanti ma due attaccanti esterni quindi come prima punta vera c'è solo Raspatori che insomma ha fatto vedere delle belle cose all'Europeo Under 21. Invece per quello che ci ha detto insomma Fonseca in conferenza stampa la Roma si schiererà con il 3-4-2-1 classico con Paolo Lopez in porta, Mancini l'unico supersede difensore centrale in difesa, Cristante che ha recuperato e qui c'è un dubbio perché potrebbe giocare Fazio ma potrebbe anche scalare uno tra Karzorp e Spinazzola poi mettendo poi Bruno Perez titolare però noi magari ipotizziamo un Fazio per non fare tanti esperimenti così Karzorp e Spinazzola potranno agire sulle fasce con Diavara e Pellegrini al centrocampo quindi magari Veretù potrà entrare al secondo tempo per far passi anche a Pellegrini che non è proprio al meglio perché durante questa sossa delle nazionali ha preso anche una botta al ginocchio abbastanza pesante ma ha giocato già contro alle Duane il dolore è completamente sparito ma è da centellinare anche lui visto che molto molto spesso ha stretti i denti perché vediamo spesso una fascia dura sulla sulla sua coscia e quindi sta stringendo molti denti Lorenzo. In attacco Pedro Esciarawi e Borca Maioral esce forse per farli prendere ancora un pochino di forma perché giustamente ha bisogno di mettere ancora minuti sulle gambe e qui potrebbe giocare anche Karles Perez perché anche Karles Perez è in ballottaggio con il Sharawi invece Borca Maioral anche se qua magari lo danno al 50% è uno di quelli che domani giocherà quasi sicuramente anche perché in campionato Borca non segna veramente da tanto tempo nelle ultime sei partite in cui è partito titolare non ha mai segnato cosa che invece non si è dimostrata in Europa League perché sia da subentrato che da titolare ha sempre fatto vedere insomma il suo valore capocannoniere dell'Europa League con sette reti e quindi ha tutte le carte in regola insomma per tornare a segnare anche in campionato e farlo nel nel migliore dei modi e queste insomma le le parole di di Fonseca di quello che è uscito dalla conferenza stampa di di questo pomeriggio infatti andiamo a vedere anche i convocati ci sono vere tu e c'è anche pastore perché anche di avere pastore si potrà si può fare un un discorso e finalmente recuperato quasi al cento per cento no sul piano fisico sta molto meglio rispetto a prima e finalmente potrebbe avere la la sua chance soprattutto in una rosa praticamente ridotta all'osso quando hai veramente come si dice le scelte obbligate no e quindi anche pastore potrà potrà dire la sua e è stato anche intervistato oggi è flaco andiamo a riprendere le sue parole che sanno di addio no perché insomma ha detto che in questo momento si trova in difficoltà vediamo se ritrovo le parole di di pass di passore eccolo qua ho parlato state riportate da mondo da mondo di forse mondo deportivo e ho parlato molto con il presidente del del tagliere se ha fatto di tutto per portarmi a gennaio ma non è stato possibile la mia situazione con la roma non è facilissima a giugno si riaprirà si riaprirà tutto e vedremo cosa succederà con il club visto che ho ancora due anni di contratto qui io aggiungo grazie a ramon monci per aver fatto questo contratto davvero scellerato il mio desiderio di tornare in argentina c'è sempre ma voglio arrivarci bene giocare e sentirmi importante ora però non è il momento non è il momento giusto per parlarne dato che da no non ho ritmo e non ho giocato dimenticando l'infortunio mi sento molto bene e mi piacerebbe essere attivo e giocare diciamo che queste parole vanno incontro a quella che è la sua situazione no perché comunque ormai si allena da tanto tempo pastore praticamente sempre in gruppo per fortuna non ha più avuto problemi sotto il fattore fisico e per lui questa è veramente una una grandissima notizia potrà dare una mano no giustamente fai parte della rosa prendi oltre 4 milioni di ingaggio se non lo usi insomma quando è a posto pastore che quando era a posto insomma ha dimostrato anche di di essere importante per questa squadra l'anno scorso c'è stato un periodo che veramente pastore ha trascinato la roma a suon di giocate coinvolgendo anche i suoi compagni ricordiamo poi parma dove la roma ha perso per per 2 a 0 anche l'anno scorso come quest'anno pastore prese quella traversa pazzesca e no oppure ci fu il miracolo di sepe comunque qualcosa di di veramente clamoroso per non averlo fatto segnare però anche lì fu uno dei migliori e mi ricordo che che fonseca lo tolse ad un certo punto e la roma praticamente da lì da lì sparì e lui in quel momento era veramente il faro il faro della roma prende tre mezzi tre mezzonetti fra con fraugher con con il fraugher scusami chiedo chiedo perdono più i bonus naturalmente così che fanno poi 4 milioni di bonus non spesso non siano maturati perché non sta non sta praticamente giocando da un anno quindi il suo angaggio dovrebbe dovrebbe essere quello però il fatto insomma che se sta bene e sta in palla aiuta i compagni come ha detto anche fonseca facendo un po da mental coach è ora di buttarlo anche nella mischia no perché comunque la rotazione della roma è veramente non dico ridotta all'osso ma è una specie per fortuna adesso tra poco sta per rientrare anche il zagnolo e la situazione andrà andrà migliorando quindi queste settimane saranno molto importanti per la roma è già naturalmente a come c'è da domani ma passando per l'europa league naturalmente perché da là si capirà veramente insomma è di che morte dovrà e dovremmo morire noi nei tifosi romanisti se credendo ancora all'europa league oppure e facendoci la testa e sperando insomma in qualche miracolo in campionato e detto questo voglio andare a leggere prima di andare alla giornata di serie a insomma le parole di questa sera di geluca petraghi l'ex direttore sportivo della roma e ha parlato insomma a gold tv e la cosa che mi sorprende lui è stato uno molto molto di cuore no abbiamo visto anche nelle conferenze stampa che che ha svolto essere una una persona che che dice le cose no e dice le cose anche in maniera molto molto coinvolgente e infatti la roma gli è rimasta dentro come dice non è stato nonostante sia stato un breve periodo è qualcosa che mi è rimasto dentro questa esperienza della roma quando non si è preparati anzi si obbliga a lasciare una cosa fa sempre male la parentesi romana mi ha insegnato molto mi ha fatto crescere cerco sempre di guardare il bicchiere mezzo pieno sono esperienze di vita tornassi indietro rifarei alcune cose e altre no ho vissuto un anno intensissimo sono arrivato con una situazione di tutti i controdutti erano usciti i totti e dei rossi la società era nei casini ero consapevole di ciò che stavo facendo che stavo facendo e convinto di poter incidere se mi avessero supportato come nei primi sei mesi oggi parleremo di un'altra storia c'è il ramarico di non aver continuato un percorso molto importante che si stava facendo anche qua e se si capisce come lui dispiace non essere rimasto nella roma però leggendo insomma il messaggio l'sms che ha mandato a pallotta mi viene difficile immaginare una una situazione diversa da questa che si è venuta a creare perché quando tu mandi un messaggio così diciamo al tuo presidente come dice adesso non mi chiamare e levo tutte queste cose qua non adesso andiamo anche anzi andiamo proprio a riprendere quel quel messaggio di di genluca pedraghi penso che non ti puoi aspettare altro che un allontanamento anche se poi lui è stato risarcito dal tribunale per il licenziamento per giusta causa però non ti puoi magari aspettare che non vieni allontanato dopo che scrivi determinate cose pedraghi ha fatto molto bene alla roma diciamo che l'unica pecca può essere la spesa veramente alta di paolo lopez no 23 milioni la metà del cartellino di san apria e quei 23 milioni paolo lopez non gli ha dimostrati non abbiamo stato neanche 10 milioni parliamoci chiaro quindi quella potrebbe essere stato l'unico errore poi naturalmente ha portato giocatori della qualità come i bagnez a gennaio vr anche lo stesso carles perez no che ha dimostrato che in questa rosa ci può stare e ci può stare anche bene vediamo se pallotta il messaggio di pedraghi a pallotta eccolo qua intanto andiamo a vedere cosa sta facendo Sinri io vi do gli aggiornamenti 3 a 2 sotto al terzo 7 ma 3 palle break per recuperare quindi è ancora ben in partita ecco qui il messaggio insomma uscì quella conferenza stampa dove poi venne venne fatto uscire questo messaggio buonasera presidente mi dispiace constatare che lei è un piccolo uomo ho sperato tanto di poterle rappresentare qui a roma per poterle fare far fare bella figura e non fare rubare i soldi che hanno fatto in tanti evidentemente non mi sono fatto capire ed apprezzare abbastanza ora le conviene mandarmi via perché dopo quello che ha voluto fare in maniera dire non potrò più essere d'aiuto io dico che per questo messaggio non ti puoi aspettare una una risposta lieta da parte di pallotta no un altro che magari agisce molto distinto pallotta l'abbiamo visto su twitter gli scrivono lo taggano e lui risponde risponde sempre per le rime no quindi un altro tipo un altro tipo molto passionale pallotta che non ha pelle sulla lingua perché avete visto che perché si è allontanato pedraghi chiede da fienga e monci ha fatto quello pastore una delle peggiori operazioni no che che sarà fatta di mercato io volevo zie che franco la fazia che zecca voleva zie che e monci voleva pastore è stato preso pastore no e poi queste cose mi fanno mi fanno anche veramente veramente molto molto ridere oltre che sorridere intanto 3 a 3 per sinner che ha recuperato il break molto bene ale ciao ciao ale buonasera benvenuto in chat comunque vigliar appena arrivato non prometteva proprio bene io ricordo quella partita di esordio di vigliar in cui la roma persia sta solo malissimo quindi si chiudeva anche un cerchio per per gonzalo vigliar che entrò negli ultimi dieci minuti sette minuti insomma di partita però mostrò qualche cosa di personalità ale e poi ecco magari andando avanti non ha fatto vedere poi quando è entrato qualcosa come si è visto quest'anno perché quest'anno ragazzi è veramente diventato un altro giocatore però anche lui ha avuto quel periodo di ambientamento si è ambientato molto più in fretta magari di un carles perez che ancora fa un po di fatica fa avanti e indietro con le prestazioni però vr anche grazie a fonseca perché da come ci hanno raccontato insomma la società lo voleva andare in prestito per farlo crescere invece fosse che ha detto no fermi tutti via rimane qua via mi serve e infatti si è visto insomma che cosa è diventato via un giocatore veramente importante adesso è imprescindibile domani non ci sarà per squalifica ma tornerà a titolare al 150 mila per cento contro l'Ajax giovedì sera e magari è quale lo ti posso fare lo stesso ragionamento anche per i bagnes no che l'abbiamo visto era quando ha giocato era molto ruvido più ruvido di adesso e anche un po più confusionario adesso lo è comunque tanto pensa come era prima faceva molti errori molti errori mi ricordo qualcosa con l'inter nel 2 a 2 del post del post lockdown e faceva qualche errore però anche il anche da lui si vedevano delle delle belle potenzialità che insomma si stiamo siamo stiamo vedendo da dopo la posa per il covid ha cominciato a dimostrare grandi cose sì sì anche perché lo sai ale che c'è il il calcio spagnolo è completamente all'opposto del calcio italiano il calcio italiano è arroccati dietro adesso magari un pochino meno però le piccole si arroccano sempre dietro è calcione e va via ti stendo ti tiro la maglia se parte il contropetere ti cionco il calcio spagnolo invece ormai non più tiki daga però verticalizzazione e alto possesso palla insomma quindi ci vuole anche anche qualcosa per lavorare ricordo la partita con la juve a fine campionato lì lì è veramente una grandissima impressione però ti devo dire che la anche una grandissima impressione l'ha fatta più adesso magari che nel finale di campionato scorso che la diciamo era quella con la juventus era una partita mezza barzelletta insomma che serviva giusto per mettere minuti nelle gambe di nicolò zagnolo che potrebbe ritornare tra un paio di settimane direttamente in prima squadra oggi non mi sono preso neanche l'acqua e quindi c'è il rischio che veramente mi strozzo oggi e a parte a parte questo di zagnolo tra un paio di settimane dovrebbe reaggregarsi direttamente in prima squadra e quindi venire direttamente convocato senza passare dalla roma primavera a gli hanno anche domandato di pedraghi tornando tornando su aspetta vengo un attimo invece in chat che mi state scrivendo allora fra mi dice cosa ne pensi di reynolds si dice che probabilmente domani giocherà dietro giocare a carsorp lo faresti giocare titolare sulla destra allora di reynolds col parma mi è parso molto diligente no magari ecco aveva un po paura dell'esordio era veramente i suoi primi minuti però è stato molto propositivo in fase offensiva anche perché la roma insomma doveva recuperare la partita per quello che ho visto dai pochi video che ci sono su youtube da quello anche di cui si parla dentro trigoria è un giocatore molto valido e guarda io ti dico la verità lo farei giocare perché brunetto peres ha dimostrato ancora una volta e anche col parma che purtroppo ragazzi è regredito avete avete presente il bruno peres magari di inizio stagione delle fine fine stagione dell'anno scorso quando ho fatto l'intervista e ho cambiato atteggiamento no so di essere adesso un professionista lì era veramente un rilancio per bruno peres no anche perché magari si stava giocando il rinnovo del contratto e cosa che il contratto scade quest'anno e non verrà rinnovato quest'anno invece ha giocato magari ben nell'inizio ha fatto quel bell'assist per pellegrin non me lo dimentico contro lo spezza e lì con lo stop di petto molti avrebbero tenuto in porta invece lui è stato molto bravo e freddo a passarla a lorenzo in buona posizione però poi si è spento quindi io farei giocare reynos primo per dargli normalmente fiducia perché comunque per quanto l'abbiamo pagato insomma si parla più di si parla il comunicato più di 6 milioni quasi 7 milioni di euro già il riscatto già già stato già stato fatto insomma già sono stati definiti i dettagli e soprattutto anche perché brunetto peres lo vedo veramente in difficoltà non so se sia un fatto di forma però insomma reynos merita anche per l'età che apri il futuro che ha nella roma un giocatore futuribile che qua dovrà restare invece al contrario di brunetto peres che a roma non resterà non resterà sicuramente quindi io ti dico che se carasop dovesse giocare da difensore centrale io scommetterei su su reynos però non so fonseca che piania forse fonseca altri piani magari mettendo spinazzolo fazio dietro quindi non andando andando a modificare tanto l'assetto l'assetto della squadra e puntando su sull'usato sicuro no tra virgolette anche se fazio purtroppo è molto usato per come per quanto ci ha dimostrato e vi stavo dicendo di petrachi e gli hanno chiesto perché ha preso paolo lopez faccio una piccola premessa quando fai una rivoluzione come quella alla roma dove ho ceduto 16 17 giocatori e ne ho presi altrettanti è normale che qualcosa venga male credo che l'aspetto importante sia cercare di non sbagliare l'uomo più che il calciatore a volte l'aspetto carattere diventa predominante paolo lopez nei primi sei mesi prima dell'errore al derby aveva dimostrato delle qualità importanti la sua qualità migliore era quella di impostare l'azione dove il derby si è inceppato emotivamente se tu non ne vieni fuori da solo diventa un dramma alice non sta rischiando la gestione al liverpool club ha detto che non è più quello di prima capita anche ai migliori mi fa rabbia non poter parlare con paolo lopez e di dare fuori gli attributi perché il calciatore deve avere anche quella personalità per uscire dai momenti difficili se non ci riesci gli manca qualcosa per arrivare a un certo tipo di livello poi ci sono i vari spinazzola mancini smalling vero tu tra tanti giocatori va bene anche sbagliarne uno ci mettere la firma per fare sempre questo tipo di mercato però è giusto contestarmi per questa scelta perché ho sbagliato anche questa è una presa di posizione importante di petraghi perché dice sì paolo lopez ha dimostrato le sue qualità giustamente io ricordo sempre la parata su storiano e a bologna e la roma era ancora solo 0 a 0 prima del gol di gioco finale è veramente una parata ai limiti del sensazionale poi giustamente purtroppo dopo il derby la botta mentale c'è perché quello era un derby importante in cui la roma veniva da un periodo difficilissimo in cui giocava male anche e non faceva punti al derby non solo ha giocato bene ma non ha raccolto punti per quella cosa di paolo lopez perché la lazio ha fatto un titolo in porta soltanto che era quella cosa quel casino insomma paolo lopez smalling che ha consentito ai cerbi di segnare poi naturalmente c'è stato un altro problema durante la pandemia insomma che si è fortunato al polso quindi insomma come sempre noi della roma non ci facciamo mai non mancherà niente abbiamo un periodo di difficoltà e ci facciamo male giustamente quello che dice su allison è vero anche i portieri più forti passano dei momenti veramente duri perché allison non solo ha fatto delle prestazioni non buone sul campo poi purtroppo anche nella vita privata la scomparsa del papà in quella vicenda veramente tragica ha veramente contribuito però si sta anche lui si sta riprendendo insomma ho visto nelle ultime partite ho visto qualche parata abbastanza importante in champions contro il lips ho visto anche qualche intervento decisivo a salvare risultato quindi allison pian piano si sta riprendendo perché allison è un grandissimo portiere paolo lopez che magari non ha la personalità di allison non ha quella forza anche nei pali di allison fa un po' fatica preso per impostare l'azione purtroppo abbiamo visto no e gli errori di di paolo lopez in impostazione si è stato preso per per quelli insomma c'è da farsi anche più più di una domanda è stata un'intervista un'intervista molto lunga molto lunga molto lunga ha detto anche questa questa cosa perché mi hanno domandato durante la conferenza stampa di presentazione di via ray bagnes ha detto di non dare notizie in esclusiva a certi giornalisti questa cosa a roma si paga e lui ha detto l'ho pagata cara è vero ha detto il vangelo ma dipende sempre come ti comporti nel senso che se tu ti interfaccia una persona in maniera magari aggressiva perché petraghi come ha detto come ho detto era una persona molto passionale qualche volta anche aggressiva con i termini e se tu ti poni magari magari in maniera non consona anche sbagliando qualche giornalista e poi se la prende con te no e quindi questa è bene ovviamente una cosa che che non si che non va bene che non va bene fare però è anche questo un modo di possi perché abbiamo visto e ti ha copinto come si è presentato no diverso da da petraghi perché petraghi era quello un po' con la faccia la faccia burbera ti ha copinto è quello no tranquillo no che ha detto tanto a fine mercato vengo io a parlare con voi in conferenza stampa ha fatto così e si è presentato in conferenza stampa poi purtroppo sono arrivati anche per te copinto delle critiche veramente allucinanti ragazzi perché te copinto è qui da da gennaio ha avuto il covid ha dovuto affrontare un mercato non semplice in cui ha portato comunque a casa il sharawi che voleva tornare un giocatore di sicuro affidamento ha portato a casa reynolds come ha detto e come ha detto anche fra che l'ha nominato è il futuro magari della fascia destra della roma quindi con quel poco che aveva la roma durante il mercato invernale ha fatto ha fatto tanto scusate prima che prima che mi strozzo importante sarà il mercato estivo per per tiaco pinto lì a settembre uno potrà dare la valutazione su tiaco pinto perché la roma dovrà prendere un attaccante la roma dovrà prendere un portiere questi due ruoli non dico fondamentali ma oltre funzionare qualcosa di più oltre fondamentale quello oltre il fondamentale e poi torniamo anche su questa cosa sono d'accordo su reynolds preferisco che sbagli lui piuttosto che peres anche perché quest'ultimo è il contratto in scadenza tra tre mesi reynolds fino al 2025 d'altronde dagli errori si impara a sbagliare ti fa crescere ma giustamente giustamente un ragazzo giovanissimo ha rinunciato anche al pre olimpico con la nazionale americana quindi tanto di cappello per restare a roma ed allenarsi poi è arrivata la chiamata della della prima squadra degli stati uniti e ha fatto anche uno spezzone di bello spezzone di amichevole quindi sta facendo un percorso importante soprattutto gli stati uniti gli usa ragazzi stanno tirando veramente fuori dei giocatori interessanti da test che al barcellona e reina che è al al borussia dortmund pulisic o pulisic non lo so perché si chiama pulisic una vita è chiamato pulisic al celsi è un giocatore di grande riferimento quindi dai tempi di landon doloman e di michael bradley sono passati veramente tanti anni anche di maward in porta e si stanno rifacendo alla grande ma giustamente guarda fra io ti chiamo soltanto fra perché fra uger fra uger mi viene un pochino un pochino difficile dimmi se se ti va bene che ti chiamo soltanto fra proprio prendo questa confidenza giustamente sbagliare ti fa crescere soprattutto in un campionato come la serie A però l'importante che cominci a magari anche a giocare con con continuità no perché anche quello è una questione veramente di primo di primo livello insomma perché quando uno gioca con continuità l'abbiamo visto Mancini no quest'anno le sta giocando veramente tutti il rendimento ragazzi è qua il rendimento è veramente altissimo il più alto possibile non solo dei difensori della Roma ma dei difensori italiani perché quest'anno neanche Acerbi che è uno di quelli che viene sempre citato come il Totem quello e quell'altro sta performando così anche Acerbi fa degli errori quest'anno Romagnoli non ne parliamo che per me ragazzi è ai limiti dell'impresentabile sì tanto non mi ha inventato allora a posto a posto mi prendo questa questa concessione Bonucci stesso ragazzi per me non è non è mai stato un top difensore ho soffrito sempre delle dei grandi aiuti di Chiellini e Barzagli e Chiellini sta sempre rotto pochi altri abbiamo magari Bastoni ecco Bastoni è un altro che sta giocando veramente bene lo metto insieme a Mancini come miglior difensore italiano di questa stagione ma veramente ragazzi a spanne e sono due giovani di grandissimo di grandissimo livello quindi per fortuna per la nazionale ma soprattutto per fortuna della Roma perché Mancini si sa di poter saranno veramente un grandissimo leader perché spesso ci mette anche la faccia nelle interviste quest'anno ci ha messo anche la faccia nei periodi anche più più difficili quindi per per riandare su Reynolds frati si deve cominciare anche a giocare anche magari subentrando Fonseca deve prendersi questa briga intanto attenzione tre match point per Sinner sul 40-0 quindi Sinner è un passo dalla finale del Master 1000 di Miami forse che deve prendersi questa briga di prendere una decisione io faccio giocare il giovane perché tanto Brunetto Perez al momento non mi dà né garanzie e nel futuro della Roma non ci sarà ora Perez giocherà giocherà giovedì perché Karlsup ha pensato bene di farsi ammonire nel ritorno contro lo Shakhtar quindi magari ecco Reynolds forse per questo non me lo aspetto nelle breve termine perché magari Perez deve mantenere ancora un po' di forma per queste partite però magari nel finale di stagione è giusto fargli mettere dei minuti importanti anche per fare gli sperezzi in un campionato che non conosce intanto Sinner ha vinto contro Bautista Agut 5-7 6-4 6-4 bravo a Yannick Sinner che è in finale del Masters 1000 di Miami strepitoso strepitoso io ho visto un pezzo di partita ragazzi non so se voi seguite il tennis insomma siete appassionati ho visto veramente un pezzo di partita e Sinner stava giocando alla grande contro un giocatore solidissimo come lo spagnolo in finale affronterà uno tra Rublev e Urkax quindi insomma neanche la finale è precusa insomma quindi bene bene Ale ci dice Mancini sta facendo molto bene sicuramente i gol che ha fatto gli hanno dato anche sicurezza sì questa è una cosa molto interessante perché anche sul fattore colpi di testa si fa trovare molto pronto perché se la Roma segna da calcio d'angolo parecchi gol sono i suoi anche per due partite ha segnato due volte consecutive quindi è anche uno che ci sa fare con i piedi abbiamo messo qualche sgruppata anche dal centro-destra andare a sovrapporsi sulla fascia oppure andare proprio ad inserirsi in mezzo al campo quindi questa questa cosa insomma è molto molto positiva da parte del nostro Gianluca caso si è fatta maniera per essere presentato sì lo penso anch'io perché il fallo è stato veramente una cosa una cosa allucinante però anche qua sai fra anche l'Europa League si gioca molto sui dettagli se io mi devo giocare magari Perez su Anthony o su David Neres mi viene da a tachicardia capito si aveva qualcosa che fa quindi no no l'ho pensato l'ho pensato anch'io questa cosa giustamente perché è la prima cosa che pensi no anche perché la difesa lei era schierata lui ha fatto quella strattonata quella mezza scivolata quindi proprio a prendersi il cartellino ciao a Joey buonasera buonasera benvenuti in chat non sarebbe meglio mettere Spinazzola a sinistra domani dato che è quello che ha dimostrato con l'Italia ma guarda fosse per me io altererei poco la formazione nel senso o mettere la difesa a 4 oppure a questo punto mi rischio Fazio se proprio devo fare qualcosa mi attappo il naso e mi rischio mi rischio Federico Federico Fazio intanto poi vi vengo un attimo a rispondere a queste cose vedo un attimo se c'è qualcosa al volo di di Fonseca dei sì di Fonseca di Petraghi però insomma abbiamo abbiamo già già detto già detto molto di Gianluca Petraghi e guarda Giovi fosse per me te l'ho detto io metterei o la difesa a 4 con Spinazzola a sinistra o manterei il 3-4-2-1 sempre con Spinazzola a sinistra perché insomma non possiamo perdere una spinta così così importante no l'abbiamo visto anche nelle partite in cui Spinazzola ha fatto il centrale magari mi viene in mente il Beneventolo che era una delle massime partite in cui la Roma è stata è stata in emergenza è una cosa veramente che ti toglie no perché Spinazzola insomma il vero Spinazzola quello che ti salta all'uomo e ti mette la valle in mezzo è un valore troppo troppo aggiunto di che non ti puoi precludere mettendolo 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 centrale e quindi quindi sì io andrei proprio con i giocatori dove vanno capito perché a me già non mi piace mettere quello là per esperimento quello là perché gioca meglio là e quello là perché c'è tutta un'emergenza se io sono i giocatori li metto dove dove devono andare poi anche i ragazzi anche il Sassuolo ha molte defezioni come noi quindi anche se magari mi rischio una difesa a 4 con Cristante che magari a 4 non è proprio questa questa grande cima posso anche farlo me la vado a rischiare me la vado a rischiare per non impattare sugli equilibri sugli equilibri di squadra quindi è questo andiamo a vedere chi arbitra perché insomma a me non piace quest'arbitro perché domani arbitrerà il grande Pairetto il grande Pairetto con Alvar Aureliano quarto uomo ci mettiamo Spadino per fare una battuta Pairetto sarà l'arbitro assistenti vivenzi e ranghetti quarto uomo prontera Var Aureliano Avar Preti insomma diciamo che Pairetto andiamo proprio a cercare le statistiche di Pairetto con con la Roma e non mi dà questa grande sicurezza Pairetto 9 partite arbitrate con con la Roma 6 vittorie un pareggio e 2 sconfitte stasola è stato arbitrato addirittura 19 volte 9 vittorie 6 pareggi e 4 sconfitte si ammonisce molto poi magari caccia pure qualche cartino a cacchio dei cani perché insomma quello vediamo con una bella foto che non aveva ancora i capelli mentre adesso abbiamo questo bel una bella cosa in testa che non si capisce insomma e che cosa che cosa sia arbitrato già un sassuolo Roma è proprio quello dell'anno dell'anno scorso che vi dicevo 4 2 per il sassuolo 6 ammoniti un rosso un calcio di rigore concesso alla Roma quello della che poteva aprire una rimonta prima che insomma si fermasse prima partita arbitrate nel 2017 Roma per una 3 a 0 però insomma dai 6 vittorie 2 pareggi un pareggio e 2 sconfitte è un buon un buon viatico l'ultima partita è stata però quella contro il Benevento in cui c'era rigore clamoroso alla fine non dato perché Ceraui e anzi no Pellegrini purtroppo eri in fuori gioco poi sul colpo di tacco per il Sciarrago quindi neanche ha tante colpe è arbitrato anche Roma Spezia quest'anno e anche Roma Cagliari quindi parecchie volte è stato protagonista quest'anno Paeretto con Roma quindi adesso ci mandano sempre questi arbitri un po' mezzi e mezzi però io devo dire che non ho grande simpatia per per la categoria arbitri no e non solo per quello che hanno fatto stanno facendo alla Roma perché comunque le cose sono sotto sotto gli occhi di tutti quello che sta succedendo alla Roma ma soprattutto perché si sentono qualcosa che non sono nel senso a qualche volta hanno l'atteggiamento strafottente ahia ho dato una botta non so se cosa ne pensate voi ma all'arbitro qualche volta l'atteggiamento strafottente e tu arbitro quando hai un atteggiamento strafottente non sei un grande arbitro perché non sai dialogare con con i giocatori e quindi quindi è questa la la situazione e invece a me piace un arbitro che magari dialoga tranquillo col giocatore magari si fa anche non dico qualche risata no ma un tono disteso senza quella faccia capito brutta che ti ringhia i denti fuori che gli parte la venan e questa cosa veramente veramente non mi piace andiamo a vedere il 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 turno di serie A di domani oggi ho giocato la serie B intanto e il turno di serie A di domani domani pomeriggio sera perché alle ore 12 e 30 il programma viene aperto da Milan Sampdoria insomma che se devo dire anzi poi le andiamo a commentare poi alle 15 il succo di questa giornata con Atalanta Udinese Benevento Parma Cagliari Verona Genova Fiorentina Lazio Spezia Napoli Grotone e Sassuolo Roma alle 18 il derby di Torino Torino Juventus con la Juventus in mezzo di un polverone ragazzi è veramente una cosa vergognosa quella che è successa con i giocatori che hanno fatto quella festa quella cena c'è una festa insomma che hanno chiamato anche delle ragazze in taxi quindi una cosa veramente una veramente schifosa in questo periodo e chiude il programma Bologna Inter devo dire insomma che sembrerà una giornata un po' scontata perché il Torino è un po' in difficoltà quindi dice la Juve ce la può fare il Bologna non è questa grande cima in difesa quindi l'Inter ce la può fare il Milan in casa potrebbe passeggiare con la Sampdoria l'Atalanta con l'Udinese quindi Lazio con lo Spezia però come ci ha dimostrato quest'anno la Serie A io vorrei attenzione perché non è detto non è detto veramente quello che può succedere quest'anno in Serie A quindi non do la giornata per scontata anche noi purtroppo ci dobbiamo dare per scontate perché la situazione è quella che è la Roma è veramente con l'acqua alla gola anche perché la partita è stata preparata come è stata preparata forse che ha avuto pochissimi giocatori a disposizione vengo in chat vengo in chat ma dall'incontro della Roma e Rocchi che cosa è uscito fuori andiamo a leggere la notizia che sta sta qua sta qua discutere degli episodi arbitrali della stagione al centro del dibattito erano presenti Smalling Michideran Pedro Cristante Giego e Miranti insomma diciamo i vecchi i grandi vecchi tra virgolette al centro del dibattito ci sarebbero stati i principali episodi arbitrali della stagione oltre al regolamento e VAR la Roma è la prima società che ha richiesto un nuovo incontro dopo quello dell'inizio stagione forse era meglio magari chiederlo un po' prima questo incontro perché adesso oddio scusatemi adesso ti possono dare il contentino purtroppo quello è sbagliato ma non ci si può fare niente non ci hanno detto niente su quanto su quanto è uscito da da questo incontro però sai Ale che che ti dico sono incontri magari questi anche per farsi sentire per aumentare il tuo status politico all'interno della della serie A perché a quel punto la Rocchi ti viene a dire contro che ne so contro quello è sbagliato questo contro quello il rigore è stato così contro il Milan non è stato dato quello è sbagliato e purtroppo adesso noi ci facciamo poco l'importante è che la Roma in questi casi si faccia sentire come forza come forza di di essere una big no? perché quello è importante ed è quello che manca perché magari la Lazio che magari di forza politica ne ha tanta no? si fa sentire perché lo dito è lì nel consiglio federale della VGC e avevo visto il caso da un po' non ne parliamo non lo riapriamo e come protestano i giocatori dentro al campo loro quelli della Juventus quelli del Milan hanno uno status quasi scusate quasi da intoccabili no? perché hanno un valore politico importante in in VGC in Lega Calcio in quello in quello che è quindi io penso che la Roma faccia questi incontri non tanto per sentirsi dire qua avevate ragione qua vanno fregato qua se ne siete sfavoriti ma magari per aumentare il proprio status no? in di di rango politico in in serie A sono le 21 e 51 e perché a me se ne è pazio no 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 mi fanno tipo una cosa del genere impazzisco impazzisco tu mi fai mi organizzi mi fai credo che sto parlando con Totti Totti mi organizza le cose incontriamoci poi ti presenti te là davanti non è proprio una cosa propriamente da fare per uno che che tiene così così tanto a Roma è molto amico insomma dei giocatori della Roma amico insomma di tantissimi giocatori che pezza che pezza è davvero incredibile cioè io fosse stato in Moscardelli non dico che mi sarei messo a piangere ma in relazione simile alla sua senza parole che ti rispondo così ma che devo fare purtroppo Poverino la partita del Dio non si può giocare si potrebbe giocare ma senza pubblico quindi è importante insomma che la facciano magari ecco questa cosa aiuterà Bomber Mosca ad organizzarla magari anche con Francesco Totti con Daniele De Rossi che loro sono veramente veramente tanto amici con Daniele quindi magari dai questo può dargli là per organizzarla veramente anche nel futuro che botta diciamo che botta mazza una bottissima altro altro che botta perché insomma ci credi no perché arrivi là credi in questa questa cosa o arriva tutti tutti mi stacchiamo a quello mi stacchiamo a quell'altro organizza l'Olimpico e fa avvenire questo fa avvenire quell'altro poi mi trovo Dusalamide e viene fuori e mi crolla il mondo addosso quindi quindi incredibile siamo quasi in chiusura ragazzi e voglio andare a parlare anche della nazionale perché insomma quello che è successo in nazionale mi sconvolge parecchio per fortuna i nostri giocatori almeno al momento sono risultati negativi sia tutti gli italiani che anche Rinceco che ha avuto il CT della Bosnia positivo al covid però c'è stato un focolaio brutto in nazionale sin da giovedì scorso della prima positività e poi via via purtroppo ha coinvolto gran parte dello staff di Roberto Mancini anche Daniele De Rossi un auguro di buona guarigione a tutti naturalmente per ristabilirsi il prima possibile ma questo come vedete qua la notizia di Verratti positivo per la seconda volta al covid lui era stato trovato positivo al covid a fine gennaio ed è risultato positivo di nuovo dopo appena due mesi incredibile poi lo stesso Bonucci che è stato vicino in aereo a Donnarumma a Donnarumma tutte le precauzioni del caso quelli del Sassuolo che domani come detto non parteciperanno alla partita contro la Roma perché precauzionalmente sono fuori Ferrari Locatelli poi anche mezzi infortunati che sono Berardi e Caputo Ayan in Turchia è stato trovato positivo in nazionale come Demiral lo stesso Muldur sempre lui turco quindi la nazionale in questo periodo era una delle cose che non ci doveva essere perché ora va bene l'europeo perfetto abbiamo deciso che l'europeo si fa è tutto a posto ed è giusto che si giochi no? però che fretta c'è adesso a marzo a fine marzo inizio aprile giocare tre partite due partite per la qualificazione mondiale del prossimo anno tu le potevi fare tranquillamente ad ottobre magari quando la situazione era un po' più tranquilla si spera che sia un po' più tranquilla con tutto il nostro cuore e non doveva farlo perché la situazione adesso è ancora più delicata con tutte queste varianti che stanno girando i giocatori non sono vaccinati e quindi appena c'è qualcosa eccola che che cade il domino no? Adelio dice capisco l'emergenza ma il Sassolo ha fatto una grande cross escludendo i ragazzi che è entrata nella nazione anche noi dovremmo fare questa cosa il Sassolo ragazzi tanto di cappello perché De Zerpi ha detto c'è l'Asa c'è quello ma non mi interessa noi abbiamo fatto una cosa per la salute dei giocatori e giustamente ragazzi anzi andiamo a riprendere le parole di di mister De Zerpi vediamo se l'ha dette in conferenza stampa eccolo qua emergenza noi ci siamo comportati così anche quando il nostro calciatore ha avuto un figlio positivo l'abbiamo fatto sempre ed era giusto farlo anche oggi in condizioni ancora più difficili perché caputo Berardi e De Frelle sono fuori per infortuni Ayan è positivo il comportamento non dipende da uno svantaggio che ha nell'episodio le decisioni bisogna prenderle anche quando portano uno svantaggio pesante perché altrimenti non si è corretti e coerenti quindi tanto di cappello al Sassuolo insomma che ha fatto che ha fatto questa cosa a differenza di altre presidenze di altre squadre di cui non non facciamo i nomi che in in periodo di covid sia in lockdown che quando è ripreso il campionato ragazzi hanno fatto veramente lo schifo perché gli è stato gli è stato permesso di fare questo schifo no perché insomma se io faccio lo schifo vengo multato vengo e pago con una penale qualcosa insomma non lo faccio più invece là fanno come come gli pare Verdù mi siete mancati ragazzi sono tornato ci sei mancato anche tu Jordan non sai quanto non sai quanto ti ha sentito questa assenza anche se di Avarà si è comportato molto bene però ragazzi una assenza come quella di Jordan Verdù si è sentita molto è stata veramente tanto pesante non solo in termini di fisico insomma di scurribando in mezzo al campo ma anche di qualità sotto il piano del gol perché quest'anno Verdù nonostante tutti i tanti i rigori tirati sta segnando ed è molto decisivo sotto sottoporta quindi è un recupero importantissimo è stato un mese dalla partita contro la Friottita quando è passato lunghissimo veramente senza Jordan Verdù questo periodo è servito anche per recuperare di Avarà quindi la Roma ha un centrocampo adesso appuntino al bacio di tutto rispetto e speriamo che Fonseca sappia sfruttarlo alla perfezione con le rotazioni soprattutto nei big match dove abbiamo spesso detto che la Roma magari manca un centrocampista e con questo centrocampo qua a metterne un altro in più non fa mai male sono le 22 e 13 ragazzi diciamo i nostri argomenti si sono esauriti andiamo un attimo a leggere velocemente il programma di Ajax Roma perché la rifinitura della Roma a Tricoria sarà a mercoledì alle 11.30 alle 12.15 la conferenza di Tenaghi un calciatore direttamente da Amsterdam e prima della rifinitura alle ore 13 alle ore 18.45 la conferenza di Fonseca e un calciatore alla Johan Cruyff Arena è vecchia Amsterdam Arena ancora per i nostalgici quindi il programma dell'Europa League è bello che stilato però ci si pensa domani alle 17 quando finirà la partita perché il contesto al suolo non è fondamentale di più per credere ancora nella nella rincorsa Champions e anzi per l'infortunio che ha avuto un mese di stop non è tantissimo è vero è molto vero perché io da come è uscito non poggiava nemmeno la gamba ragazzi quindi ho pensato veramente ad una cosa grave di due mesi anche per le notizie che circolavano era un grado alto di infortunio insomma il problema muscolare non era di quelli da poco non poggiava la gamba però il giorno dopo insomma due giorni dopo che è andata a Villa Assuerte per fare la risonanza insomma le visite già camminava quindi da lì siamo siamo tornati un po' più tranquilli no per fortuna Jordan Jordan è tornato ma per caso voi sapete cosa ha Smalling il problema al ginocchio al flessore non si capisce bene il problema è al flessore ma il problema al flessore potrebbe derivare dal ginocchio dal problema del ginocchio che ha avuto inizio stagione ricordate quando è arrivato da Manchester insomma poco dopo si è fatto male a questo ginocchio subendo una distorsione in allenamento e da là ha avuto ancora questi questi problemi da quanto però da quanto dice Fonseca l'operazione è scongiurale per risolvere per risolvere insomma questa cosa lui forse ha questo problema perché non ha una corretta postura no perché magari anche chi ha un problema magari ha una caviglia no può sforzare più il ginocchio può sforzare più il quadricipite più il flessore e così via lui ha questo problema al ginocchio che magari non è un ginocchio sanissimo che si porta dall'inizio stagione e ha di ritorno questo problema al flessore che non lo fa stare tranquillo ha delle rigatute perché magari lo poggia male quando corre lo poggia male quando sterza quindi insomma è una questione che va vista bene ma purtroppo una sfortuna si è accaduta veramente su di lui l'anno scorso che era in presido nessun problema quest'anno che la Roma l'ha comprato con tantissime difficoltà a un secondo al termine del campionato c'è stato un problema dopo l'altro il ginocchio la caviglia i muscoli e qua e di là di su e di giù e ancora questi problemi di Smalling però insomma per farlo rientrare così cautelamente Fonseca e lo staff lo stanno gestendo penso al massimo per non fargli fare degli sforzi insomma che andrebbero poi ad inficiare ancora di più sul suo rendimento magari ma manca un mese un mese e mezzo alla fine della stagione e un problema di quel genere più grave li farebbe finire veramente la stagione quindi ci vuole ci vuole sempre cautela come la cautela stanno usando per Mkhitaryan è evidente per non farlo rientrare in fretta e furia anche perché lui è incline molto agli infortuni ce l'ha dimostrato l'anno scorso quest'anno insomma tanto è durato anzi forse troppo è durato prima di farsi male poi in una maniera ragazzi da veramente dromanista un tiro a porta vuota che potrà sembrare facile non solo non ha segnato fin dopo altro lui si è fatto si è fatto anche male quindi una cosa veramente incredibile e un'ora e venti di trasmissione ci possiamo salutare qui ragazzi grazie insomma a chi c'è stato grazie a chi ha commentato in chat della della vostra presenza insomma delle vostre domande delle vostre considerazioni noi ci rivederemo sempre qui su twitch lunedì sera alle ore 21 21.30 insomma tanto se seguite i nostri social su twitch verrà annunciato su twitch sono veramente al bar e su twitter verrà annunciata l'ora della diretta insomma quindi 21.21.30 l'orario è super giù quello ci sarà davide di biggest official ospite per parlare di questo solo roma e saremo nel giorno di pasquette insomma quindi saremo ancora nel giorno di festa tornerà anche federico insomma per godersi dopo che si è goduto questo compleanno ai noi purtroppo ancora ancora a casa ciao fra un saluto grazie insomma della della tua presenza del tuo coinvolgimento ricordo insomma per chi non ha ancora premuto il tasto segui il cuoricino in basso a destra di farlo per restare sintonizzato con le nostre live insomma lunedì mercoledì venerdì e speriamo anche presto di partire anche con il martedì e il giovedì sto organizzando magari se vi piace una carriera football manager con la Roma insomma faremo il calcio mercato insieme vedremo le partite quindi meglio meglio quello che i vari FIFA questi qua dove uno si avvelena e basta è un gioco manageriale insomma per alleggerire anche un pochino un pochino le serate e passare ancora un po' più di tempo insieme a voi tutta la settimana ciao Ale buonasera da te ci vediamo lunedì vi ricordo punto esclamativo sub per abbonarvi al nostro canale per chi ancora non l'aveste fatto andando a cliccare il link che vi appare nella descrizione oppure andando a cliccare il tastino in basso a destra della della live ricordo che con Amazon Prime è totalmente gratuito collegando il vostro account Amazon a quello Twitch e Ale di Football Manager Droga lo so benissimo caro Ale lo so benissimo che vengo a pungere dove l'appassionato di calcio si vede ed esce fuori quindi ci stiamo lavorando probabilmente la farò direttamente io solo quella carriera insomma quel format anche per interagire con voi e vedere anche qualche nuovo talento perché no andare a scovare qualche nuovo talento del calcio del calcio mondiale e per ricordo dei sub come farlo con il punto esclamativo sub andando a cliccare in basso a destra della live e il follow andando a cliccare sul cuoricino sempre in basso a destra della live siamo quasi a quota 100 siamo a 96 follower e i nostri social facebook twitter instagram pagineromaniste il nostro sito web pagineromaniste.com aggiornato sempre 24 ore su 24 e domani tutto il giorno le notizie tutte le news su Sassuolo Roma poi prepartita post partita la diretta su twitter della cronaca il tabellino su twitch e si madonna ma io sono veramente un rincoglionito io ve lo posso dire il tabellino sul nostro sito e la cronaca su twitter e niente poi l'intervista del post partita e tutto l'instagram speriamo perché così se i giocatori mettono l'instagram vuol dire che abbiamo vinto se vuoi d'aiuto magari se c'è qualche bel giocatore che insomma conosci dei wonder kids insomma ce ne stanno veramente tanto poi insomma quando partirà questa cosa ragazzi ci divertiremo veramente tantissimo domani ore 15 Sassuolo Roma mapei stadium detto questo noi ci vediamo lunedì sera alle 21 e 30 21 insomma sempre su twitch e aggiornamenti sempre su pagineromaniste.com domani verrà ricaricato il podcast sul nostro youtube signore angelo rosso detto questo ragazzi io vi saluto un ringraziamento da Iuri Oggiano per questa sera è tutto ci vediamo lunedì sera sempre forza grande Roma ciao ragazzi grazie a tutti